La seconda generazione di Audi A1 Sportback amplia la gamma motori. La versione 25 TFSI è la più leggera tra le compatte premium, un primato che sottolinea il carattere sportiveggiante della vettura all'insegna del dinamismo cui contribuiscono la griglia single frame ampliata e collocata in posizione ribassata, le muscolose prese d'aria laterali e le tre fessure piatte sotto il bordo del cofano motore. La nuova A1 Sportback 1.025 TFSI vanta un motore tre cilindri da 95 cavalli e 175 Nm di coppia abbinato al cambio manuale a 5 rapporti che consente di scattare da 0 a 100 km orari in 10,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 191 km orari con un consumo di 5,5 e 5,8 litri ogni 100 km su ciclo combinato ed emissioni di 125 131 grammi al chilometro di CO2.